Oh giovani amici di Facebook, torniamo a parlare di hardware fotografico qui su Incautoacquisto l'ultima volta avevamo parlato del DJI Osmo, ve la ricordate sicuramente c'è stato tanto interesse su quella camera particolare stabilizzata che però per il mio uso si è rivelata un semi-fail se non un totale fail in realtà me l'ho portata in un paio di viaggi come vi avevo anticipato però si è rivelata veramente scomoda nell'uso che ne faccio io magari sono in giro, ho una presentazione, ho bisogno di qualcosa che sia molto facile e veloce da utilizzare invece l'Osmo doveva essere tirata fuori dalla custodia, accesa, andavano sbloccati i tre motori era molto ingombrante, è molto delicata e quindi fondamentalmente l'ho rivenduta e ho continuato a cercare una camera perfetta per fare vlogging e essere portata in viaggio quindi insomma molto piccola, portatile, leggera, facile da utilizzare e magari anche resistente insomma a eventuali cadute o comunque essere sballottate in giro dentro lo zaino, dentro la valigia eccetera eccetera ho fatto un po' di ricerche durante gli scorsi mesi e fondamentalmente sono finito su due possibilità che sono entrambe quelle che vengono chiamate le nuove compatte premium costano molto ma sono delle macchine fotografiche molto compatte che però hanno al loro interno delle ottiche di alta qualità, un sensore di dimensione decente diciamo così, spesso lo schermo che si rigira verso il fronte della camera in modo tale da essere utilizzata per fare vlogging, appunto per autoriprendersi e altre figate che mi interessavano particolarmente stavo per comprare la prima G7X di Canon che appunto è una delle due più famose insieme alla Sony RX100 però mi sono accorto che stava per uscire la Mark II quindi ho aspettato questa camera mi ha fatto penare di brutto perché era in preordine su Amazon tipo un mese prima della suscita tra l'altro ho un prezzo interessante, il prezzo di destino di questa camera è di 700€ e in preordine ha 600€ per cui mi sono detto magari spesso che quando esce calda ancora di più in realtà ho aspettato come un coglione quando è uscita è andata a prezzo di 700€ poi non era più disponibile, sono stati dei problemi con vari, un tremoto una cosa del genere che ha rallentato la stima di Canon e quindi non si trovava più questa camera poi mi ho preordinato un'altra su un altro sito che sembrava se fosse disponibile dopo i passati 10 giorni ancora me l'ho mandato alla fine ne l'ho comprata su E-Price su questi store esterni che vendono su E-Price un po' come succede su Amazon in particolare Cine Sud che ringrazio perché me l'ha spedita in 3 giorni c'era scritto che era disponibile ed era effettivamente disponibile e altrimenti dentro la scatola ho trovato un sacco di regali guardate che roba strana non mi era mai capitato un portachiavi Canon una borsettina Canon che non so cosa serve chiaramente è tutta roba da pochi spicci però fa molto piacere anche questo credo che sia un portafoto o un portacarte di credito perché è davvero 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 ricco non lo so quindi grazie Cine Sud insomma amen andiamo ad aprirla così vi continuo a parlare un po' di questa camera ok varia cartaccia garanzie varie il manuale che mi leggerò a letto come al solito adesso lo lascio qua dentro per tirarlo fuori non serve il coltellino la scatola era già praticamente aperta ma comunque mi sembra ancora in tonsa qui c'è la camera vera e propria che è davvero davvero figa la distruzione è super sonica tutta quanta in metallo vedete quanto è compatta adesso la metto un attimo da parte guardiamo che altro c'è questo è il cavo per il caricatore esterno il caricatore esterno la batteria che è la NB13L poi vi dico anche come fare a ottenerne altre ne ho già prese altre due a pochi soldi e un piccolo strap da polso che è l'ideale con questa camera eccolo qui allora non viene data chiaramente come al solito nessuna scheda SD per cui metto dentro una delle mie e metto dentro anche la batteria magari la vediamo accesa la cosa interessante rispetto alla Mark 1 è che questa è finalmente dico io finalmente caricabile anche via USB da quello che ho capito purtroppo non si può non la si può alimentare mentre la si usa però il fatto che si possono ricaricare le batterie via USB è sicuramente un grandissimo vantaggio allora ve la mostro costruita in metallo è veramente molto bella è costruita molto bene la cosa principale che si vede è questo schermo che si alza in alto e quindi si può utilizzare in questa maniera per auto riprendersi eccomi qua chiaramente così è molto semplice auto riprendersi perché ci si vede in più l'altra figata è che lo schermo è touch screen questo è un vantaggio rispetto invece alla concorrenza Sony con la sua RX100 in cui lo schermo ancora non è touch screen comunque qui lo schermo è touch touch canon molto figo che ha piccole feature secondo me molto interessanti cioè chiaramente ha il touch to focus ma non è istantaneo il passaggio da un punto di messa a fuoco all'altra ma viene fatto gradualmente per cui se state riprendendo l'effetto è molto migliore sembrerà una sciacchezza ma Canon in questo è stata molto brava su questa Mark II hanno cambiato il sistema di movimento dello schermo prima si poteva muovere solamente verso l'alto ora si può muovere anche un po' verso il basso in modo tale da fare le foto insomma tenendo la camera in alto e guardandola dal basso l'altra cosa in cui Canon ha ascoltato gli utenti è la ghiera qui attorno allo schermo nella Mark I si muoveva con questo rumore clic clic no? sentite? che è molto figo secondo me perché quando cambiate le impostazioni è bello sentire il clic in modo tale da essere certi che si sta cambiando qualcosa chiaramente è personalizzabile su diversi parametri l'apertura la velocità di scatto eccetera eccetera lo zoom in questo caso la cosa figa però è che Canon ha ascoltato gli utenti che dicevano vabbè però quel rumore mentre riprendiamo non è molto bello perché invece che cambiarlo e farlo uguale all'RX100 che non è cliccoso ma è fluido e quindi non fa rumore ha inserito entrambe le cose cioè c'è questo piccolo selettore qui che se mosso passa da una modalità all'alto così è fluido e non fa rumore se muovo qui il selettore va a scatti e fa rumore l'ottica è Canon il sensore è lo stesso invece dell'RX100 quindi è un sensore Sony da un pollice in realtà li chiamano sensori da un pollice ma si chiamano one inch type perché non sono da un pollice in realtà cioè la diagonale non è da un pollice è di 16 mm un pollice è oltre 25 quindi assolutamente no è una di quelle insomma operazioni un po' che fanno i produttori un po' misleading se me lo chiedete se volete altri riferimenti è un sensore micro 4 terzi come quello della camera che sto utilizzando ora è 22,5 mm di diagonale è un sensore APS-C che è sulle Reflex Canon e Nikon di fascia media è attorno ai 30 mm è un sensore full frame è 43,3 mm quindi molto più grandi dei sensori in questa compatta fatto sta però che il sensore da un pollice o one inch type chiamatelo un po' come volete è molto più grande rispetto ai sensori che si trovano di solito nelle macchine così compatte e così piccole altra cosa molto buona di questa camera è l'ottica appunto che è simile a quella della RX100 Sony ha valori molto simili ma migliori in due aspetti ha uno zoom più spinto perché questo è un 24-100 mentre l'RX100 di Sony si ferma prima e soprattutto come apertura passa da 1.8 all'apertura massima di 24 mm a 2.8 e lo fa molto gradualmente quindi ha un'apertura molto buona molto luminosa 1.8 è veramente ottima e fa quelle belle foto e quelle belle riprese con quel bouquet con quella soffocatura di campo molto accentuata che è data appunto dall'avere un'ottica così tanto luminosa al suo interno un stabilizzatore di immagine IBIS in body image stabilisation a 5 assi quindi anche questo veramente ottimo questa Mark II ha il nuovo processore Digic 7 di Canon che permette una messa a fuoco molto più veloce e tempi di scatto velocissimi il tempo di messa a fuoco durante le riprese mi sembra molto veloce lo vediamo insieme tac mi sembra molto veloce tac 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 e questo è merito del nuovo processore che vi dicevo che è stato introdotto con questa Mark II è uno dei motivi principali per cui ho scelto questa pur costando molto di più rispetto alla Mark I il nuovo processore fa veramente miracoli sia sulla messa a fuoco che era un po' il punto debole della Mark I lo schermo che vedete è da 3 pollici il rapporto è 3 mezzi continuo a chiedermi di impostare la data ma questo lo faccio dopo il rapporto è di 3 mezzi e ha un milione di pixel mi sembra molto buono non ha rispetto all'ERX100 il mirino ottico è una cosa di cui si lamentano tutti però sinceramente preferisco alla grande avere un buon schermo touchscreen e magari rinunciare anche visto il costo rispetto all'ERX100 al mirino ottico quello che vedete qui che si apre è il flash rispetto alla Mark I si può inclinare verso l'alto cosa molto positiva perché gli si può fare fare appunto magari il bounce della luce sul soffitto o su altre superfici proprio come sull'ERX100 continuo a nominare di continuo la camera di Sony perché appunto tantissimi che stanno puntando su queste compatte premium si ritrovano a dover scegliere tra queste due camere ognuna ha i suoi vantaggi e svantaggi secondo me questa G7X Mark II però è migliore perché costa molto meno con 600-650 euro vi portate a casa una camera che è praticamente grande e uguale costruita in metallo nella stessa maniera schermo touch la ghiera come avete visto molto figa sia clic clic che fluida l'ottica secondo me è migliore il sensore dicevo è lo stesso 20 megapixel Sony ha il wifi chiaramente è comandabile via wifi collegandola al proprio smartphone cosa molto comoda si possono scaricare le foto oppure si può comandare completamente la camera ha un sacco di funzioni ovviamente di modalità in particolare da quello che ho letto e lo proverò senz'altro il time lapse funziona molto bene sia per il notturno che per il diurno riprende chiaramente che la cosa che mi interessa più a me in questo caso perché continuerò a utilizzare la camera con cui sto riprendo ora per fare foto ma utilizzerò questa invece per fare video soprattutto in giro il video dicevo è ottimo ha un'ottima compressione cosa che solitamente invece è il talone d'achille di queste camere che magari hanno ottime ottiche e poi dopo comprimono un sacco e quindi alla fine vi ritrovate con dei filmati di merda questa comprime poco e fa video a 1080 arriva quindi al massimo al full hd che per me è più che sufficiente a 60 frame al secondo un massimo di 29 minuti che sono più che sufficienti quello che sentite ora è il microfono integrato nella Canon mi sembra discreto provo anche lo zoom così vedete anche così siamo all'apertura massima di 24 arriva fino a 100 vediamo un po' ecco qua e più anche uno zoom digitale che si spinge ancora oltre però insomma io lo eviterei lo zoom digitale per intenderci questo è 100 e questo è 24 mm insomma uno zoom che mi sembra molto buono l'ottica rimane molto luminosa sia all'apertura massima di 24 mm con un'apertura di 1.8 e arriva come vi dicevo a 2.8 quando ci si spinge fino a 100 mm e questo vuol dire tanto soprattutto in mobilità avere a disposizione uno zoom di buona qualità ecco una macro di buona qualità vediamo un attimo fino a quando riesce a mettere a fuoco mi sembra tranquillamente sono molto vicino in questo momento ecco qui è fuori fuoco vediamo se no mette comunque a fuoco sono veramente a un paio di centimetri dalla lente si mette a fuoco senza problemi sono a direi un centimetro dalla lente guardate che bella macro che ha questa lente così è all'apertura massima di 24 mm e riesce tranquillamente a mettere a fuoco vedete anche tutto quanto la polvere che c'è su mio povero Mario devo spolverarli un po' questi prendipolvere appunto sono a un centimetro della lente e la macro funziona bene come vi dicevo a inizio video ho comprato vari gadget in più ogni volta che compro una camera nuova devo per forza comprare qualche gadget il primo è questo è il GorillaPod action sarebbe fatto per le action che ho ma secondo me è perfetta è perfetto per queste camere compatte lo monto al volo vedete che ha una mini livella integrata ha lo sgancio rapido della camera molto comodo per cui si possono montare altre camere oppure semplicemente staccarla poi è un GorillaPod si può utilizzare per fare per farsi per auto riprendersi un po' alla case in Estat per intenderci in questa maniera qua non prenderei quello più grande perché è veramente eccessivo per questo tipo di camera questo qui mi sembra perfetto trovati il link in descrizione costa veramente poco altra cosa che ho comprato chiaramente subito due batterie aggiuntive costano poco sono compatibili le batterie canon sono straimitate dai cinesi stessi 1000 watt per cui direi che le prestazioni sono praticamente identiche da quello che ho capito la camera riconosce che la batteria non è originale però funziona uguale quindi cambia praticamente nulla ve la faccio vedere da volo mi è arrivata insieme alla camera praticamente sono molto piccole sempre da 1250 mAh anche queste sono super consigliate insieme a questa roba qua che non sapevo esistesse e invece è potenzialmente super comoda cos'è? è un caricatore equivalente al caricatore canon però invece che essere da parete invece che avere il classico connettore così la spina a una micro usb per essere ricaricato quindi si può collegare dentro lo vano per esempio a un battery bank e questo vi ricaricherà le batterie mentre siete in giro cosa comodissima perché magari avete appena cambiato la batteria mettete quella scarica dentro qua e questo qui lo collegate a un battery bank e mentre siete in giro senza avere bisogno di prese particolari potete usare questo caricatore questo costa veramente tipo 10 euro mi ricordo pochissimo tra tutti quanti i link di questi accessori secondo me molto utili insieme a questa camera in descrizione nient'altro direi super consigliata la utilizzerò nei prossimi giorni e mesi per le mie trasferte e vedrete appunto la qualità video in quei video questo è solamente un unboxing è un po' una digressione se volete un consiglio finale su queste camere premium compatte che hanno utilizzi molto particolari chiaramente vi consiglio di acquistare la G7X Mark I che costa davvero poco e offre praticamente la stessa qualità video e fotografica ma ha insomma qualche fighetteria in meno sta attorno ai 400-450 euro veramente poco per questo tipo di camere altrimenti vi consiglio questa Mark II oppure se avete esigenze particolari che insomma non sono rispecchiate da queste Canon non c'è appunto la Sony RX100 Mark III o Mark IV se vi piacciono i miei unboxing e le mie super veloci recensioni come questa fate like fate share e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti